21 febbraio 2001, Novi Ligure. Erika Denardo e Omar Favaro, entrambi minorenni, uccidono con 120 coltellate la madre e il fratello di lei. I due vengono condannati a 16 e 14 anni di reclusione. Il 3 marzo del 2010 Omar Favaro torna in libertà. Ha potuto avere uno sconto della pena grazie all'indulto e all'accoglimento della richiesta di liberazione anticipata. Erika, che si è laureata in carcere in lettere e filosofia, tornerà libera nel 2012.